Ciao a tutti e bentornati alla sezione tutorial del sito shiftios.it In questo tutorial vedremo come in maniera molto semplice possiamo personalizzare la transazione tra due V-Controller nel corso iOS abbiamo visto i vari passaggi che bisogna fare per creare una transazione tra un V-Controller e l'altro tramite un segue che possiamo utilizzare o tramite un navigation controller oppure tramite modalità diretta, quindi senza la barra di navigazione con l'indietro abbiamo visto i vari metodi che ci mette a disposizione Xcode diciamo quelli classici che sono lo show cioè il passaggio da sinistra a destra oppure presenter moduli cioè dal basso verso l'altro e poi possiamo fare il full screen, il current contest ma sempre diciamo i vari, questi due passaggi classici come abbiamo visto per i vari elementi grafici i bottoni, le view, possiamo ritirare la loro classe e apportare delle personalizzazioni all'elemento grafico in oggetto cioè tramite il bottone visto possiamo cambiare l'ombra possiamo impostare, abbiamo visto anche nei vari tutorial come creare degli effetti tipo shake o ingrandire, impicciolire sempre editando nel caso del bottone, la classe del bottone e inserire poi la nostra personalizzazione stessa cosa possiamo fare nelle transazioni infatti se noi, per esempio ho creato due V-Controller due semplici V-Controller l'ho collegato tramite il segue e ora possiamo andare a vedere nella scheda del segue qui abbiamo dato l'identifier e possiamo notare qui la classe madre della transazione che è la UIStoryBoardSegue quindi noi creando un file che eredita la classe UIStoryBoardSegue possiamo interagire con essa quindi implementarla e creare il nostro effetto personalizzato ma passiamo subito al codice sicuramente daremo un'idea più chiara di questo passaggio quindi ci spostiamo qui e creiamo il nostro file sempre appunto di Google At Touch vedete la subclass che già ho selezionato è la UIStoryBoardSegue possiamo chiamarla passaggio personalizzato oppure farla più semplice che è meglio segue personalizzato lo troviamo nel nostro progetto ecco qui che andiamo al file dove abbiamo la nostra classe e vedete la realtà se noi andiamo vedete a con Alt e il tasto andiamo a vedere la classe oppure possiamo sempre con CMD andare sulla Definition e andremo a vedere tutti gli elementi che identificano questa classe vedete Identify Source e Destination e la funzione Open che vedremo che utilizzeremo per personalizzare la nostra transazione quindi spostiamoci nel file quindi adesso farò vedere una semplicissima poi vi farò vedere un'altra cosa cioè io potrei trovare tanti programmatori che mettono a disposizione transazioni molto carine io già l'ho importata una credo è questa qui vedete dopo vi farò vedere l'effetto adesso nell'esempio faremo una molto semplice quindi come vi ho accennato dobbiamo fare l'override override del metodo func perform eccolo qui vedete metodo perform vedi perform the visual transition for the segue quindi all'interno di questo metodo di tipo void creeremo la nostra transazione prima cosa creerò una variabile lo chiamerò primo che è uguale al source view quindi la view quindi è diciamo adesso vado a finire il rischio secondo è uguale a destination view quindi come si può immaginare il source è la view controller iniziale e il destination view controller finale dopo di qui imposto la windows che sarebbe la finestra dell'intera applicazione che è la ui application shared perché è una singleton ok windows vedi the app k windows vedete vi ricordate nell'app delegate eccola qui la var ui windows che è la finestra generale di tutta la nostra applicazione quindi torniamo al segre personalizzato a questo punto cosa gli dico gli dico che la nostra finestra windows prova a inserire insert insert subview subview sotto quindi nella nostra finestra chiediamo una transazione dove diciamo la view secondo sta sotto alla view primo sicuramente tu mi chiederà siccome essendo opzionale mi chiederà il punto esclamativo quindi cosa gli dico a questo punto a questo punto crederò la nostra transazione vera e propria gli dirò che secondo tramite il transformed dirò che è uguale a secondo transform faremo per esempio in questo caso una scala quando x gli darò 0 quindi la farò piccolissima a scala iniziale anche anche sull'asse del y quindi sarà molto piccolina quasi invisibile c'è ok perché opzionale opzionale abbiamo detto poi a questo punto a questo punto faremo un'animazione quindi abbiamo abbiamo detto che il secondo più controller quindi destination lo riduciamo tramite il transform a una dimensione veramente molto piccola 0,01 a questo punto tramite un'animazione ui animate della view quindi animate useremo il competition quindi possiamo impostare non lo so una durata di 0 quindi di mezzo secondo dove all'interno il void quindi la nostra animazione sarà che cosa sarà richiamare il primo quindi il nostro il nostro view controller di partenza quindi primo che cosa faremo trasformeremo il primo in secondo trasform scala 0,01 e 0,01 manca sempre il nostro punto scrambativo quindi trasformeremo il destination il primo uguale al destination dopodiché finita questa operazione quindi dopo il competition potremmo chiamare qui shad nel void che cosa faremo? faremo un'altra animazione eccolo qui ok faremo un'altra animazione ui wind ui view animate animate anche qui un completion quindi cosa vi dirò di animarlo possiamo fare sempre 0,5 nel void metteremo che il secondo trasform deve essere uguale a c cga trasform punto identiti cioè faremo tornare alle dimensioni ricordate identiti serve a ritornare alle dimensioni reali dell'elemento che stiamo trasformando quindi da 0,01 iniziale lo faremo ritornare a grandezza a grandezza reale cioè alla grandezza di tutto il terminale dello schermo al competition quindi al finish di shad faremo che il primo cioè il view control di partenza anche lui tornerà a cg cga trasform identiti e finito questo qui abbiamo fatto la trasformazione ma ovviamente dobbiamo renderla visibile quindi faremo un self source present 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 sell present sell destination as quindi destinazione come un UI view controller animate pulse completion computation e need quindi faremo vedere il self il view controller di destinazione che è un view controller che non rimaniamo al fine del computation need quindi vediamo se abbiamo fatto tutto correttamente ovviamente se adesso lo lancio non succede niente perché perché ovviamente vedete non succede niente perché dobbiamo rispostarci come ogni volta quando dobbiamo personalizzare un elemento o una grafica quindi adesso al nostro elemento non lasceremo diciamo la classe standard quindi la classe madre quella di default ma appunto vi diremo che vogliamo utilizzare il nostro segue personalizzato che è figlia ovviamente della classe madre UI story prosegue quindi gli assegniamo la nostra classe dopodiché se adesso noi lanciamo dovrebbe apparire la nostra animazione che sarebbe l'impicciolimento della view control di partenza vedete ok eccola che abbiamo vedete abbiamo personalizzato la transazione di entrata stessa cosa ovviamente possiamo farle con quella di uscita o con lo UI wind quindi vedete noi clicchiamo al momento del click quindi la partenza del view control secondo è piccola l'animiamo per 5 secondi trasformiamo il primo uguale al secondo quindi diventa piccolo il primo finita questa animazione il secondo torna normale quindi a grandezza schermo e il primo pure perché va sotto e vedete non appare più quindi non lo rilanciamo vedete ecco qui l'animazione stragiude ecco qui perfetto questo quindi abbiamo visto come semplicemente ovviamente qui un esempio facile ma possiamo sbizzardirci a creare effetti ovviamente i cardini sono il source destination il source view e il destination view e richiamare poi il present dopodiché all'interno di questo possiamo giocare come vogliamo adesso vi faccio vedere esempio un'animazione che ho trovato su internet velocemente vedete questo questo programmatore ha creato questa simazione già nel 2006 quindi ha tre anni è ancora molto valida anche ha aggiunto il cg animate delegate vedete che serve per creare altri effetti quindi ha creato questo codice che se noi adesso andiamo a sostituire la nostra classe perché anche quello è sempre abbiamo visto una classe una fila di una classe di UI Story por segue quindi se noi invece di selezionare la nostra classe creata e utilizziamo questa qui noi clicchiamo e abbiamo il motore e vedremo l'effetto molto carino che crea vedete eccolo qui guardate caruccio che da al centro vedete si espande verso l'esterno ovviamente lui l'ha creata così vi faccio per esempio già come vedete anche prendendo la una già fatta e vogliamo ancora personalizzarla lui per esempio qui ha messo vedete il centro è uguale al centro della la metà dell'altezza e la metà della larghezza quindi ecco abbiamo selezionato il centro se io per esempio adesso già possiamo l'altezza non lo so adesso noi vediamo già 2 invece che 5 non è più alla metà ma dovrà essere riducendo come abbiamo detto come sapete il centro del terminale è in alto a sinistra quindi dovrebbe spostarsi in alto a sinistra leggermente in alto a sinistra quindi vedete se io vedete ecco vedete già dove parte il centro dovrebbe essere da queste parti vedete il centro dell'espansione quindi già modificando un parametrino abbiamo già per esempio creato un altro effetto quindi ritorniamo quello centrale vedete com'è facile poi già personalizzare sul personalizzato diciamo quindi se voi cercare in rete personalizzare transazioni o esegue le trovate a migliaia quindi basta importare nel vostro progetto e non dovete per esempio ne scrivere neanche un unico di codice oppure come abbiamo visto adesso modificando piccoli parametri quindi leggendo il codice piccoli parametri possiamo personalizzare la personalizzazione trovata però vedete anche qui come potete notare anche nella sua ovviamente queste sono tutte variabili che servono per creare l'effetto ma anche qui vedete utilizzato il perform quindi la classica perform e vedete anche qui il destination source view il source view e il destination view quindi questi sono elementi essenziali ovviamente dopo tutto il resto del codice serve per creare quell'effetto che abbiamo visto bene anche per questo tutorial è tutto spero che il tutorial vi sia piaciuto e vi sia stato utile per domande e chiarimenti ovviamente come sempre potete visitare il sito swift.js.it o commentare questo video se il tutorial vi è piaciuto per lasciare un mi piace qui sotto e iscrivervi al canale per rimanere e aggiornare sulle prossime lezioni e sui prossimi tutorial grazie e buona programmazione a tutti grazie grazie